alcune teorie fisiche tra cui quelle di Stephen Hawking sostenevano che l'universo sia autogenerato senza bisogno di causa prima se vuoi questa cosa te la confuto al momento ma tu non confuti Stephen Hawking stai tranquillo sentiamo la confutazione non sai neanche cos'è una confutazione Andrea, lascia stare abbi pietà fammi la domanda, non ho capito un cazzo dimmi la domanda nessuna, non volevo farti nessuna domanda volevo solo esplicare al pubblico quanto tu non mi avessi spento la tana del frerito ciao preterigno allora adesso sta per entrare appunto questo ragazzo perché Andrea ti vuole distruggere su un argomento che abbiamo già tirato fuori ho invitato anche Don Ambrogio perché l'argomento comunque è sempre la questione religiosa va bene lui è incazzato di brutto ti vuole proprio dilaniare ma bene ok diamo il benvenuto a lui eh vabbè era lampante scusami non è che ci vuole solo una laurea beh d'altronde non ce l'hai per cui comunque sia comunque sia buonasera a tutti saluto Don Ambrogio saluto Don Ambrogio saluto Andrea e saluto Grimbaud che ringrazio di avermi invitato qui in live no allora faccio un attimo una piccola una piccola premessa allora chiedo scusa non capito niente ci sei Andrea si stavo rispondendo in chat scusami ok ok allora innanzitutto Genio Matematico è già stato presente in altre live eccetera lo conosciamo tutti ma aveva espresso la volontà di non entrare più nelle mie live perché diceva che gli ospiti che invitavo quindi voi inclusi non erano all'altezza della sua intelligenza poi il concetto era questo è della mia cultura sì sì Andrea tu compreso lo so purtroppo là quando hanno chiuso i manicomi siete tutti per strada eh sei libero esatto va bene qual è il discorso comunque qual è il discorso allora il discorso è molto semplice aspetta ieri ho scaricato l'applicazione tiktok mi sono accorto che ci sono un sacco di video che fanno intendere che tu mi abbia in qualche modo distrutto dialetticamente no andando semplicemente a supporre un qualcosa di falso a partire da una premessa ti sei offeso vorrei spiegare tutti questi tutti mi sono offeso ti sei offeso sei un po' offeso un po' mi sono andato offeso ti sei offeso amore ho ferito i tuoi sentimenti piccolo ma io non che centro io scusami gli altri fanno i video invece l'ho fatto io che centro io ah sì sì ma io non mi sono offeso a causa tua mi sono offeso congiuntamente a una tua operazione capisci e gli altri fanno i video ed è colpa mia prenditela con gli altri che vuoi da me mi hanno detto che è colpa tua beh in un certo senso sì è colpa io mi sono offeso a motivo di una tua azione non so se è stata voluta o meno ma azione o pensiero azione ma comunque sia allora aspetta facciamo il supposto qualcosa da una certa promessa tale supposizione era errata ma facciamo così che vi spiego tutto vai io non so io non so quindi quindi ah ma è bello che non so neanch'io non so neanch'io quindi credo che sia l'argomento sia sempre arriverete a saperlo prego posso parlare certo allora semplicemente ieri ho scaricato TikTok e sono venuto a conoscenza che ci sono un sacco di video che appunto non lasciano intendere come Andrea mi abbia in qualche modo spento riguardante l'esistenza di Dio dopo che io gli ho apertamente detto che non ho non avevo in atto una dimostrazione del fatto che lui non fosse Dio e sembrava che lui ponesse come implicazione che per il fatto che io non avessi avuto in atto una dimostrazione del fatto che lui era Dio allora Dio non esistesse e Grimbaud sbagliando ha detto tesi già distrutta e sì però carini la tesi non era Andrea è Dio o non è Dio la tesi era Dio esiste e come ho detto all'epoca cioè all'epoca prima in precedenza nell'ultima live quando anche io posso dimostrare che Dio esiste quando anche Andrea possa Dio esisterebbe non voglio non voglio però parlare solo io io proponevo di fare un dibattito io Andrea ma sicuramente se vuole intervenire da un blogio come vuole però un dibattito in cui ognuno parla 5 minuti dopo 5 minuti lascia la palla all'altro così non ci magari 5 minuti sono un po' tantini forse meglio un minuto per avere un botto risposta più veloce 3 minuti ok le vie di mezzo funzionano sempre va bene allora ma devo mettere un timer io dici? me lo metto anch'io ok inizio io dico quello che dico perché appunto non ho detto tutto dopo i 3 minuti se mi dai un secondo te lo metto proprio così lo vedono anche in live allora tu come stai genio matematico tutto bene? bene bene grazie bene ho ripreso l'università ah bene bene e lo Xanax non rispondo a queste provocazioni parli te che sei hai iniziato tu esatto parlo io hai visto questo l'hai capito chi parla ognuno chi parla lo capisci bravo ci sono è notevole molte persone non lo capiscono neanche Andrea lo capisce ok allora ti metto il timer sotto la faccia ti metto il timer sotto la tua sono simpatico però eh sì simpaticissimo dai allora ti metto il timer hai 3 minuti a partire da ora vai allora la mia tesi era punto primo la mia tesi era Dio esiste tu hai semplicemente detto dimostra che io non sono Dio io ho detto che non avevo in atto una dimostrazione del fatto che tu non fai non fossi Dio questo fatto non implica che non si possa dimostrare che tu non sei Dio a prescindere da ciò la mia tesi appunto era Dio non esiste non Andrea non è Dio dunque certo che non ho dimostrato non posso non avevo una dimostrazione in atto del fatto che tu non fossi Dio avevo una dimostrazione del fatto che Dio esistesse e tu avevi supposto avevi fatto intendere che per il fatto che io non avessi avuto una dimostrazione del fatto che tu non è Dio allora non si potesse dimostrare l'esistenza di Dio falso poi punto secondo io ho dimostrato l'esistenza del Dio cattolico attenzione perché l'esistenza del Dio cattolico non implica la vericità di tutte le sue proprietà ok questa è una cosa evidente ok dunque ipoteticamente quando anche la regione cattolica quando anche la dottrina cattolica fosse falsa ipotesi comunque rimarrebbe dimostrata l'esistenza del Dio cattolico che è semplicemente definito come la causa prima ok punto terzo io ti ti ho dimostrato in maniera blanda non ti ho dimostrato bene perché non c'erano le le insomma i predisposti per dimostrare una cosa in maniera molto rigorosa però ti ho dimostrato l'esistenza del Dio mediante la via causa efficiente di Tommaso Roquino dicendo appunto che ogni cosa ha una causa era sottinteso che ogni cosa ha una causa tranne la causa prima che si chiama causa prima proprio per il fatto che non ha una causa e questa causa prima la si chiama Dio e tu continuavi a dire e ma se tutto ha una causa anche Dio ha una causa e no perché Dio è la causa prima che per definizione è la causa che non ha causa ok e tu continuavi ad andare avanti con questa con questa tiritera e chi ha inventato di non sono ancora passati i tre minuti poi nell'ultimo live con Maria Sofia mentre si parlava di veganismo tu a un certo punto toglivi la possibilità di vederti in telecamera e parlavi alla tua chat commentando quello che dicevo in malo modo nella fattispecie quando dicevo che la legge di gravitazione universale era una concettura tu hai detto ma cosa stai dicendo ma non me l'hai detto in faccia beh e te lo dico in faccia ma cosa stai dicendo la maggior parte se non tutti i principi fisici sono congetture ok non penso che tu sappia neanche cos'è una dimostrazione la dimostrazione necessita un sistema simatico un sistema simatico che non c'è in fisica la fisica è un modello ma in quanto modello è fatto da proposizioni congettoriali e quelle che tu chiami dimostrazione altro non solo che principi che prove a sostegno di una proposizione congettoriale oh finito il timer ho finito mica ti è suonata tutta a casa praticamente vabbè ma quindi ok Andrea hai tre minuti via quindi di che cosa non ho capito un cazzo quindi vai vai la domanda qual è qual è l'affermazione a cui devo rispondere non ho capito una sega quindi posso parlare eh sì fammi la domanda non ho capito un cazzo dimmi la domanda qual è nessuna non volevo farti nessuna domanda volevo solo esplicare al pubblico quanto tu non mi avessi spento ma tu continui a ridere perché non sai come rispondere è molto semplice questa è la tua tecnica allora per favore voi di tiktok basta con questi video sono dopo qua finisce che me lo trovo sotto casa che c'è che allora siccome cerchiamo allora partiamo dall'inizio con calma però solo a una condizione non ti devi offendere perché se se guardi tiktok ci sarà sempre qualcuno che ti rompe le balle quindi ricordati tiktok è un posto di gente che vomita odio vomita acidità e ti darà contro per il puro gusto di farlo quindi se già parti una discussione alterato perché sei stato influenzato dalle persone su tiktok tu capisci che la discussione non può andare avanti perché sei influenzato da video e frasi dette da terzi non uscita da me anche perché io non ho mai detto ho blastato genio matematico io ho finito la live sono andato a giocare quindi prima devi liberare la tua mente da questi video perché ti assicuro che tanti insulti prendi tu quanti ne prendo io quanti immagino che anche il Don tra i suoi commenti abbia trovato frasi poco gradevole inerenti al suo credo eccetera quindi prima devi sgomprare la mente sei partito troppo aggressivo troppo inaccidito è vero troppo cattivo sei partito scusami quindi sei pronto a intavolare una discussione liberando la mente senza lasciarti prendere da odio e rancore non ho odio non ho rancore non so di cosa stai parlando eri di una serenità ineguagliabile guarda sembravi un pitbull con la rabbia voglio dire comunque per tornare al discorso di prima il mio odio il mio rancore non sono l'oggetto della discussione dunque non vorrei parlarne ho capito quindi asserenati ricordi dimostralo che ce li ho cosa sei dentro la mia testa dentro la mia anima per sapere i miei sentimenti per l'amor del cielo sarebbe il caos bene comunque smettiamo di parlare di me allora parliamo di quello che hai detto un attimo se mi fai parlare per tornare al discorso la tesi dell'altra volta su cui abbiamo discusso era del fatto che era indimostrabile l'esistenza di una qualche divinità ma era puro oggetto di fede per il semplice fatto che non essendoci prova alcuna materiale oggettiva dell'esistenza di qualche divinità a questo punto diventa complesso riuscire ad asserire con certezza che una divinità esiste al punto che se io ti dicessi che io sono Dio tu non potresti smentire concretamente questa affermazione e di conseguenza la mia affermazione sopravvivrebbe solamente come frase fondata sulla fede tempo scaduto allora tu dici che non si può avere nessuna dimostrazione che non si può dimostrare l'essenza di Dio lo dici tu non lo dimostri io ti ho appena ti avevo appena dimostrato la dimostrazione di Dio non è dicendo che non esiste la dimostrazione di Dio che confuti una dimostrazione se io voglio dimostrare qualcosa e tento di dimostrarla tu non la confuti semplicemente dicendo che non si può dimostrare né confutare è quello che stai dicendo tu la tua suppositiva non ha senso il discorso perché tu devi affermare eh vabbè ma così che discussione è se no dai così è inutile mi perdo i pezzi parli troppo in tre minuti mi perdo il senso del discorso tu prima hai detto tu prima hai detto non si può dimostrare l'essenza di Dio dimostralo che non si può dimostrare io ti ho dato una mia dimostrazione che non hai confutato no 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 si dimostra l'onere della prova è a chi sostiene l'asserzione ma cosa stai dicendo ma se ti sentessi un matematico dire una cosa del genere ti fai ridere sei ridicolo ma cosa stai dicendo veramente questo è uno dei principi di matematica comunque va bene lo stesso l'onere allora scusami allora scusami sicuro che non hai ripreso scelta delle comunicazioni allora scusami allora scusami il 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 tema fondamentale dell'algebra non è stato enunciato da Riemann eppure l'ha dimostrato Riemann secondo questo tuo principio non avrebbe dovuto dimostrarlo perché l'onere della prova sarebbe solo perché annuncia questa prova allora il teorema fondamentale dell'algebra non è stato enunciato da Riemann eppure l'ha dimostrato Riemann ma cosa stai dicendo se tu sostieni che esiste qualcosa devi portare esatto con certezza devi portare qualche sorta di dimostrazione e l'ho portato stesso principio vale per te se tu sostieni che non esiste devi portare le prove che non esiste no perché a questo punto vale per tutto vale per la fatina dei denti supponi che io dica che esistono i buchi viola dei buchi che trasporta in un universo parallelo e io quindi posso andare a Stoccolma a chiedere il Nobel della fisica perché nessuno può smentirmi e quando i fisici mi chiedono dammi le prove allora il Nobel lo si dà stai davvero delirando scusami io gli rispondo voi non potete dimostrare che non esiste che non esistono quindi ho ragione io ed esistono no e loro non ti darebbero il Nobel perché direbbero che tu non puoi dimostrare che esistono no appunto se io dico che qualcosa esiste è perché ho delle prove dietro non posso dire agli altri di smentirmi perché allora anche la fatina dei denti Babbo Natale Allah Zeus Odino tu non puoi dimostrare che non esistono e quindi di conseguenza non ha alcun senso tu al posto di continuare a dire che non ho una dimostrazione perché non tenti di confutare invece la dimostrazione che ti ho dato ma qual è? la dimostrazione ex causa efficiente di Tommaso Laquino che ti ho proposto nell'ultima live e che se vuoi ti ripropongo adesso ma rimane alla stessa esatto sì posso intermettermi così magari cerchiamo un po' perfetto nel senso che effettivamente genio matematico ma qual è il tuo nome così dichiamo per nome Riccardo ecco Riccardo grazie però Riccardo puoi spendere una casa perché sì 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 Riccardo dice la dimostrazione della causa prima che già si era aveva pensato anche Aristote è un po' la filosofia classica che poi San Tommaso riprende che è di fatto una dimostrazione logica dell'ovvio ma voglio dire sì è anche è impossibile smentire quella dimostrazione della causa prima perché effettivamente è perfettamente logica ecco poi però noi uomini abbiamo bisogno anche di come dire un riscontro empirico delle cose infatti noi Dio comunque lo conosciamo sì per causa prima l'uomo è sempre stato convinto che Dio esiste non è che aveva bisogno di dimostrazioni logiche questa come tante altre che sono state formulate anche nella storia della filosofia come chi anche alle superiori studia e conosce molto bene ma noi comunque Dio a un certo punto l'abbiamo poi conosciuto nel concreto cioè avremmo pensato fino a prima sto parlando di Cristo fino a prima di Cristo sì Dio esiste ma lo conosciamo nel concreto no sappiamo che esiste sì però com'è effettivamente come pensa di noi come come si approccia nei nostri confronti fin tanto che non l'abbiamo conosciuto nel concreto in Cristo cioè nella persona incarnata di Cristo quindi effettivamente il discorso del genere matematico di Riccardo cioè logicamente è ineccepibile la causa prima e quindi tu devi ragionare noi sì in questa live secondo me ci sono tanti studenti di filosofia che già il primo anno di filosofia studiano questa cosa e sanno che appunto non si può smentire il discorso della causa prima non ci vedo nulla distratto quello che riguarda la nostra fede è quello che riguarda la nostra fede sono le proprietà di Dio ossia che il fatto che Dio è trino che nell'ostia vi è in atto il corpo di Cristo questi sono tutti i documenti per i quali noi diamo un valore di verità a causa della nostra fede tutto quanto fuorché le esistenze di Dio che invece si può dimostrare come appunto mi dà ragione Don Ambrogio sulla base dell'evidenza sensibile ma guardate che all'inizio dell'universo ci sono tante teorie scientifiche che non includono necessariamente l'esistenza di una divinità sì ma vedi all'inizio dell'universo c'è una causa sono teorie però è l'inizio dell'universo che noi chiamiamo Dio la logica è diversa dalla teoria lo sai la teoria si può smentire o confermare eventualmente invece il ragionamento logico è diverso certamente certamente però tecnicamente senza prove anche Dio nella teoria perché quanti dei ci sono stati nel corso della storia se parli con i musulmani per loro Allah è l'unico vero Dio e io tra l'altro per fare un esempio che i musulmani ci ho parlato parecchio negli ultimi video di TikTok mi hanno snocciolato le loro perle secondo il quale il Corano sarebbe il libro sacro per eccellenza quindi secondo questa logica non è Dio che esiste ma è là se parli con i buddhisti è il loro Dio che esiste e tutti hanno creato l'universo anche Zeus o Dio hanno creato l'universo e c'era gente che ci credeva quando hanno perso i fedeli sono diventato mito se domani i cristiani sparissero Dio diventerebbe mitologia perché non avrebbe più fedeli e ci sarebbe un altro Dio che ha creato l'universo questa per esempio è una tua teoria strampalata che non si basa su nessuna prova scientifica si basa sulla logica il fatto che tu dica che una cosa si basa sulla logica non implica che si basi realmente non funziona così la scienza non è che dico una cosa dico la sua logica ma infatti guarda che io e Don Ambrosio siamo diametralmente opposti in termini di ideologie non è che l'abbiamo discusso tante volte su fede e religione non è che io non rispetti la sua religione o il suo credo ma c'entra che se ne frega di quello che rispetti sto cercando di farti capire ma se non mi fai finire la frase se non mi fai finire la frase fallo finire genio quello che stavo dicendo è che non ti devi inacidire così non ti inacidire stai calmo perché sei così agitato easy bro perché non prendo ordine da te dunque se voglio inacidirmi posso inacidirmi quanto voglio chiaro non parliamo delle mie non stiamo parlando delle mie emozioni stiamo parlando dell'esistenza di Dio non cambiamo discorso ok? bene qualsiasi cosa sia la causa dell'universo possiamo chiamarla particella di Dio possiamo chiamarla qualsiasi cosa quella sarebbe Dio perché noi definiamo Dio la causa della creazione dell'universo chiaro c'è un'idea sbagliata che sia di Dio cioè voi voi scientisti un po' ignorantotti che siete che siete alla fine avete un'idea di Dio come del Dio cattolico che necessariamente ha tutte le proprietà di onnipotenza e quant'altro esplicate dalla dottrina cattolica queste sono tutte proprietà a cui noi cattolici crediamo per fede ma la definizione che diamo a Dio è solo la causa prima può essere il Big Bang noi allora chiamiamo Dio il Big Bang può essere teoria delle stringhe cazzate varie cioè cose varie noi allora chiamiamo Dio queste cose chiaro non si può dire che però non esiste una causa prima ma tu non sei cristiano scusami tu non sei cristiano scusami sono cristiano e che c'entra le stringhe e il Big Bang sei cristiano il Dio cristiano quello è non è che te lo puoi immaginare in modi diversi con cose diverse e sei cristiano il Dio cristiano è quello e quello ha fatto la fede cristiana segue un principio molto lineare non è che ti puoi immaginare Dio come vuoi a cui io credo vero per fede esatto ma noi non stiamo parlando di tutte le proprietà di Dio a cui io credo vero per fede stiamo parlando del fatto che a prescindere da ciò possiamo dimostrare l'oggetto della nostra fede che è Dio cioè l'esistenza dell'oggetto della nostra fede che è Dio dunque tu magari potevi obiettare che magari non è stato Dio a creare l'universo ma è stato il Big Bang sì sì ma noi chiamiamo Dio la causa prima dunque però scusami genio genio però tutto nasceva per il quindi se il nostro universo è nato da un multiverso infinito il multiverso l'ha creato una divinità in poche parole quindi ogni volta che vai l'indietro madonna allora questo multiverso non lo chiamiamo Dio quindi ogni volta che facciamo una scoperta quindi ogni volta che fai una scoperta scientifica attribuisci sempre cioè dobbiamo andiamo avanti fino alla fine il multiverso non è una scoperta scientifica semplice è una congettura una teoria semplice ma scusami scusami posso interrompere ma genio tu avevi cioè il motivo per cui rientrati in live genio quando tu hai entrato in live avevi detto chi è ateo è un coglione giusto perché è impossibile chiaramente è una provocazione però il concetto è che non puoi dimostrare che Dio non esiste eppure diciamo che chi è ateo si contraddice è incoerente ok è incoerente perché dice di credere solo a ciò che può dimostrare e non può dimostrare l'inesistenza di Dio a cui crede fermamente ma scusami ancora una volta dunque l'ateo ha fede nelle sue nel fatto che Dio non esista ha fede in questo ma non puoi dimostrare l'inesistenza di qualcosa è un discorso che abbiamo già fatto ragazzi anche perché metti caso aspetta ferma un attimo metti caso che io non abbia alcun tipo di conoscenza sulla dottrina cristiana fai finta che io non la conosca non sappia cosa sia la dottrina cristiana non sappia nulla tu vieni da me e mi parli della dottrina cristiana e della divinità cristiana e io ti dico non ne ho mai sentito parlare mai delle prove e tu mi rispondi smentiscimi ma che vuol dire allora se adesso ti parlo della mia divinità che esiste e ti dico smentiscila ma che significa cioè devi portare tutte le prove che vuol dire smentiscila ma attenzione ma attenzione io non ti ho detto smentiscimi smentiscimi no non hai capito ritengo che non sia necessario non ritengo intendo credo no ritengo ritengo vuol dire penso non credo io penso ritengo che l'esistenza del nostro universo non sia necessariamente legata alla presenza di una divinità credo che l'universo si possa penso intendi pensi che sia vero che ipotizzo teorizzo non sia necessaria una divinità per spiegare l'universo abbiamo spiegato l'universo si chiama teoria teoria non ho l'arroganza né la presunzione in logica le proposizioni sono di tre tipo o sono teoremi o sono assiomi o sono congetture sono solo tre non ce ne sono altre o è teorema è dimostrato o è assioma o è evidente una cosa da cui si credeva per fede o è una congettura sono solo tre o è assintoto che Dio non esiste qual è di queste tre io non credo che esista dunque è una congettura congettura io non credo che esista perché non credo sia necessaria la presenza della divinità perché se vai a guardare la certezza assoluta non si ha praticamente su nulla però io ritengo per ipotesi che non sia necessaria la presenza della divinità per spiegare l'esistenza dell'universo con i passi avanti che abbiamo fatto in termini di fisica abbiamo scoperto praticamente tutto a partire dal big bang e lo spazio per una divinità tanto niente beh niente non è big bang tante cose che ancora non sappiamo certo quello indiscutibilmente don tante cose non ne sappiamo però conosciamo il campo di X la particella di X sappiamo quando si è formata la terra sappiamo che ci sono stati i dinosauri sappiamo che il big bang è stato 14 miliardi anni fa sappiamo come si formano le stelle e ora ipotizziamo che il multiverso sia la spiegazione del big bang se poi mi vuoi dire il multiverso chi l'ha creato è stata una divinità io ti rispongo per me poco probabile non impossibile poco probabile allora puoi dire che è poco probabile no ma è definito così cioè è definito come la causa prima in assoluto è una questione di definizione io non ci credo per me la causa prima è una casualità è definito non puoi credere che non sia vera una definizione madonna santa ma vedi Andrea io credo in quello che voglio ma non ho capito cioè santa inquisizione allora allora senti Andrea devi lasciarmi almeno un minuto di parlare senza interrompermi io penso che tu a questo punto non penso che tu sia in mala fede in quello che dici io penso che tu abbia una grossa grossa lacuna in campo di logica ok allora se io se io definisco questo queste queste cuffie Marco le definisco è una questione di definizione nominale ok cioè vuol dire dare un nome a una cosa ok queste cose queste cuffie sono evidentemente esistenti ok tu non puoi dire che non esiste Marco cioè puoi dirlo ma è evidentemente falso perché se io ho definito Marco come queste cuffie allora queste cuffie esistono allora non sei cristiano perché il dio non è scritto che è il big bang se sei cristiano devi credere in quello che dice la Bibbia possiamo che mi lasci finire di parlare poi dopo tutto quello che non capisci scusami sono come le persone che dicono io sono cristiano però fanno tutto il contrario di quello che sono i comandamenti no se sei cristiano sei cristiano se no non sei di che credi è una divinità casuale se no dici che sei cristiano va bene lasciami finire poi arrivati scusami ho torto perdonami se uno è cristiano è cristiano se uno è cristiano è cristiano bravo e se una Fiat è una Fiat Punto allora è una Fiat Punto bravo bravissimo questi sono il tuo livello di argomentazione vabbè lasciami finire se noi definiamo una definizione nominale la causa prima come Dio e dimostriamo dal punto di vista logico che è necessario che esista una causa prima ok non sappiamo la sostanza di questa causa prima ok allora è chiaro che esiste Dio in quanto abbiamo dimostrato l'esistenza necessaria dell'esistenza di una causa prima ok che ha creato l'universo sensibile sì ma non necessariamente deve essere una divinità se per te Dio è il Big Bang è un altro discorso è un nome Dio D-I-O sono tra lettere sono tra lettere Dio non è un nome Dio è una divinità cristiana che esiste da sempre che ha creato l'universo no è Dio o sei cristiano o non lo sei se sei cristiano non puoi creare che Dio è un nome capisci che stai girando Andrea il fatto è che non è così come dire quando parli di logica una persona che dopo usa altri tipi di argomentazioni fai fatica dopo a farti capire ecco ho capito però Andrea dice di essere uno scienziato si fa passare per uno scienziato una persona che dovrebbe conoscere logica a quanto pare è di un'ignoranza pazzesca ma quando scusami ma quando è che l'ho detto ma quando è che l'ho detto sta cosa si fa passare per uno scienziato per uno scienziato ma io non l'ho mai detto questa cosa ok allora devi ammettere che sei parecchio ignorante scusami te lo dico ma detto da te ho un complimento io te lo dico ma comunque lancia stare voglio dire no voglio dire non è necessario che ci sia una divinità per una causa prima non serve alcune teorie fisiche tra cui quelle di Stephen Hawking sostenevano che l'universo sia autogenerato senza bisogno di causa prima potrebbe essere l'unico ecco se vuoi questa cosa te la confuto al momento ma tu non confuti Stephen Hawking zio stai tranquillo cioè calmo non è che vai a confutare sentiamo la confutazione è arrivato non sai neanche cos'è una confutazione Andrea lascia stare abbi pietà si buono sono quei dolci che si danno per le feste religiose dei battesimi ti danno i confuti madonna se una cosa si autocrea prima deve esistere per creare se stessa il che è un'assurdità per cui l'universo non può non può essersi autocreato effettivamente meno male che sia arrivato perché ha smentito Stephen Hawking effettivamente ci voleva che cazzo è Stephen Hawking perché si chiama Stephen Hawking deve avere ragione non so capito ma che cazzo che sa Stephen Hawking di cosa c'è stato all'inizio dell'universo scusami scusami effettivamente metto le mani avanti perdonami effettivamente che cazzo ne sa Stephen Hawking dell'universo ma anche te veramente ma Stephen Hawking è un fisico in effetti cioè Stephen Hawking non indaga ciò che era prima del tempo assolutamente effettivamente lui ha fatto delle dichiarazioni personali non ha fatto delle dichiarazioni fisiche in quell'ambito per quello che Riccardo lo smentisce e può smentirlo perché ne ha la competenza per farlo ho capito è come se io parlassi di non lo so facciamo la cinghia di distribuzione della mia macchina sono un prete cioè non è che se l'ho detto io perché sono un prete allora ho ragione lo dirà meglio il meccanico diverso è contestare dire che cazzo ne capisci è un po' diverso che cazzo ne capisci di universo non è contestare è leggermente un filino diversa la questione comunque sia anche volendo ipotizziamo ipotizziamo per un attimo che esista o non esista il multiverso facciamo finta facciamo finta che il nostro universo sia l'unico esistente e non ce ne siano altre esistono comunque delle teorie che prevedono la autogenerazione di fluttuazioni quantistiche che possono dar vita a un nuovo tessuto spazio-temporale e quindi anche qui non si sarebbe necessaria la presenza di una divinità cosciente che fa partire il tutto se partiamo col multiverso è il multiverso che ha dato vita al Big Bang e a questo punto la domanda è chi ha creato il multiverso e lì per l'amore di cielo sono aperto a tantissime opinioni mi viene semplicemente da dire che sia poco probabile sia stata una divinità visto che tutto quello che abbiamo scoperto fino adesso non ha l'inclusività non ha portato il far sì che sia necessario una divinità per creare i fenomeni fisici la terra sappiamo come si è formata le forme di vita abbiamo delle idee molto precise i laboratori abbiamo quasi ricostruito per intero il DNA quindi se Dio non è mai stato presente in nessuna fase dell'universo perché deve essere presente nella prima? Quello che tu quello che dici noi sappiamo è inerente a questioni fisiche ok? Dio Dio in quanto causa ok? è una cosa inerente alla metafisica ok? è una cosa che sta sopra la fisica ok? Dunque tutto ciò che riguarda la fisica ovviamente non parla di Dio ok? perché non è di sua competenza infatti la fisica come si dice spesso no? in catechismo e quant'altro la scienza dice il cuone la religione dice il perché ok? il fatto che una cosa funzioni in un certo modo secondo una legge scientifica non implica che il motivo per il quale succede in questo modo sia per esempio la volontà di Dio ok? ora a prescindere da ciò la metafisica non è di natura fideistica fideale ok? è di natura logica per cui vedi anche tu per esempio hai detto ci sono teorie che dicono che l'universo si è autogenerato ok? hai messo un sacco di parole che non so neanche se tu sai il significato di quelle parole con fluttuazioni fontistiche va bene fluttuazioni non plufuazioni fluttuazioni sì a volte mi impappino a parlare questa cosa è una cosa impossibile poiché c'è una legge logica che la impedisce ossia che è una cosa per autocrearsi deve esistere prima di esistere e ciò è una contraddizione no è un assurdo non può una cosa lo spazio tempo è pieno di fluttuazioni quantistiche che si autogenerano dal vuoto quindi non è vero prima abbiamo una teoria siamo passati da è pieno è pieno di cose che si girano dal vuoto questo l'abbiamo dimostrato quindi è difficile negarlo anche perché l'evaporazione dei buchineri viene proprio per questo abbiamo dimostrato qualcosa non implica che abbiamo diventa difficile diventa difficile fare una discussione se ogni cosa che dico dici non è vero aspetta posso genio posso fare una domanda io dimostro le cose tu dici abbiamo dimostrato dunque non le dimostri però scusami allora io posso dire da una parte sono d'accordo con te cioè io capisco quello che dici che ci deve essere una cosa primaria che faccia scatenare tutto ok e quindi bravo ok e fin qua quella si chiama Dio ma ok però tu che associazione dai a Dio a una divinità no è questo che credo un ateo confuti il fatto che Dio si è associato alla divinità nel tuo caso cristiana ok quello che tu intendi per una divinità secondo tutte le tue eccezioni che ci dai si intende tutte le proprietà di Dio a cui io credo vero per fede e che non posso o comunque non ho una dimostrazione di vernicità adesso eh io per quello sono ateo perché non credo a quelle dottrine non credo a quelle allora attenzione è come dire io non ho mai visto Grimbaud però so che esiste ok lui sta dicendo questo Riccardo allora io non posso sapere quanto è alto se hai capelli castani sei uomo o donna so che esiste però non l'ho mai visto quando dopo ti vedo so anche come sei fatto però intanto so che esisti questo sta dicendo esatto bravissimo e come lo sai ho capito ma tu non sai che esista ma tu con questo aggiornamento non sai che esiste che esiste Dio per come è spiegato nella religione cattolica questo io confronto bravissimo io non ho mai detto di saperlo cioè io non ho mai detto che esista che esista una causa prima tutto vabbè mi sembra abbastanza chiaro non è chiaro ad Andrea quanto pare no ma è chiaro anche ad Andrea io ho detto che c'è ho detto solo che ho detto che per me non è una divinità è solo un fenomeno fisico ma è ovvio che c'è una causa per qualcosa però io sono ateo perché non credo che sia quella la causa non credo che sia poi vabbè io non sono ateo sono agnostico ma se fossi ateo non crederei a quella causa lì è per quello che dicevo prima che non è abbastanza la dimostrazione logica di ciò che è già ovvio non è abbastanza nel senso che poi effettivamente dobbiamo conoscere questo Dio io però ragazzi è un po' tardi devo anche scappare tranquillo Don Ambrosio prima di andare è che comunque siate sereni riusciate a dormire tranquilli Andrea Riccardo si può anche discutere insomma dopo alla fine live fate così datevi la mano datevi un bacino Don siamo sopravvissuti Don siamo sopravvissuti a live peggiori voglio dire quindi questo mi preme insomma dopo discutere fa bene è interessante anche penso per le persone che ci seguono entrare in questi ragionamenti e cercare di usare la testa sempre usate sempre la testa non bevetevi quello che vi dicono anche ma solo al Gino ecco quindi ok io vi saluto vi ringrazio ciao Don Ambrosio sono stato molto contento di averla di averla qua questa sera anche io grazie ce la voglio la saluto buona serata ciao ciao notte Don notte notte ha fatto l'inquadratura finale d'anziata comunque a parte Don Ambrosio ti sei calmato sei più sereno adesso abbiamo capito io ho capito cosa intendi però io ti ripeto io non credo a Dio come divinità che dice ok creiamo il mondo creiamo l'universo non credo a questa supposizione che ci sia tu non credi al fatto che Dio non credi al fatto che Dio sia Trino non credi al fatto che abbia creato prima il cielo poi la terra non credi a queste cose e io rispetto la tua non credenza questo sì però non puoi dire che non esiste cioè non puoi credere cioè non puoi affermare con certezza che non esiste una causa prima ma causa prima ma tu la devi chiamare per forza Dio ma causa prima non è per forza Dio capito? non la chiamo io noi cattolici la chiamiamo Dio eh appunto io non credo scusa un attimo io non è che io non vai che voglio far polemica però se tu sei cattolico Dio non è la causa prima Dio ha creato la terra in sette giorni Dio ha creato Adam e Deva cioè essere cattolici vuol dire seguire quello che la dottrina cattolica ti dice non puoi immaginare le cose che vuoi se no non sei cattolico voglio solo dimostrare voglio solo dimostrare l'esistenza dell'oggetto del cattolicesimo che è Dio allora non sei cattolico tu credi in una divinità che è un po' diverso sei proprio Dio io sono proprio Dio io sono proprio Dio va bene non è un problema stavo dicendo un'altra cosa con la D veramente no io sono cattolico credo credo per fede alle proprietà della dottrina cattolica ma credo credo per logica alla all'esistenza dell'oggetto del cattolicesimo che è Dio secondo la definizione che noi cattolici diamo di Dio noi secondo me non sei tanto cattolico non sei molto cattolico secondo me sei più credente che cattolico però io di il suo voglio dire madonna con quale cazzo di frasi esci madonna credi che la terra è stata fatta in sette giorni credo lo credo non è fatta fatta in sette giorni abbiamo le prove che la terra ha 5 miliardi di anni abbiamo le prove ma cosa c'è abbiamo le prove si abbiamo le prove con il cadimento degli atomi quindi sbagliato tutte queste tutte queste proposizioni sono congetture ok non sono congetture no abbiamo le prove abbiamo le prove su quale sistema assiomatico non è sistema assiomatico abbiamo le prove bene non si può dimostrare nulla i dinosauri abbiamo fatto la datazione sono esistiti 200 milioni tutte queste datazioni sono congetture sono tutte congetture tutte le prove che abbiamo trovato fino ad adesso e abbiamo raccolto sono tutte congetture tutte bravissime ancora la terra è piatta ancora la terra è piatta sono creato gli alieni sono tutte congetture sono congetture non è pubblica che la terra sia piatta cosa stai dicendo tutte congetture è tutto un complotto dei poteri parla allora Andrea tu sei molto ignorante parla con uno scienziato davvero accolto laureato ti dirà che ho ragione io che non abbiamo le prove che la terra è un modello si al manicomio è un modello dunque non spiega con certezza con assoluta certezza gli avvenimenti fisici abbiamo le prove della datazione della terra no zio no abbiamo le prove non è la discussione abbiamo fatto abbiamo fatto la datazione dei resti dei dinosauri non sappiamo che la terra non è no ah cioè giusto perché se non le faccio io giustamente non valgono no no devo averle fatte io devo averle prove io in mano tu hai incontrato Dio ok senti allora l'hai mai incontrato con dimostrazione ti ripeto che le proposizioni sono solo di tre tipo dimostrazioni congetture e assiomi abbiamo preso le ossa ossa quelle che formano il corpo dinosauro abbiamo fatto la datazione abbiamo visto che esistono da duecento milioni quelle date sono teoremi sono teoremi quelli cioè che per esempio la terra esiste da non so sei milioni di anni per dire è un teorema mi prendi il culo no ahia è un teorema è di natura di un teorema cioè una cosa dimostrata non non si può fare una discussione con una persona che nega la scienza moderna cioè stiamo parlando di aria fritta voglio dire cioè tu stai negando le prove che sono state uno stai rispondendo alle mie domande questo è un fatto ma le tue domande sono ridicole allora le tue domande non hanno un senso logico Einstein diceva non esistono domande stupide esistono solo risposte stupide esistono solo persone stupide ma comunque non ha senso tu sei una persona dunque sei stupido non ha senso quello che stai dicendo e tu cosa sei un alieno cioè oddio che sei dato quello stupido da solo cioè tutte le persone sono stupide tu sei una persona a meno che tu non sia un gattino con quelle due rocchiette ah si è vero sei un gatto non sei neanche una persona vado avanti che cazzo vuoi che dica qua servono degli psicofarmaci potenti che cazzo vuoi che ti dica non rispondo a queste provocazioni ah parli te sei arrivato te mi stai rompendo le palle da inizio live che ti sia offeso su tiktok ma non metterti a piangere e fare l'offeso scusami si genio sei un po' per malosino non sto piangendo nooo venga guarda sei di una serenità spirituale incredibile cioè zio tranquillo cioè voglio dire è vero è vero sono molto sereno si vede ma non si immaginare quando sei agitato cioè voglio dire che cazzo fai va bene va bene non vorrei ripeto non ho voglia di parlare del mio stato emotivo non è il motivo per cui sono avuto in questa live rimaniamo sul fatto che tu non hai risposto ma che cazzo ti devo dire stai parlando stai negando tutte le prove scientifiche raccolte fino adesso come concetture suoni teoremi causa efficienza cioè la conversione Andrea sei tu che sei ignorante allora la scienza non nega Dio assolutamente tutte queste cose ma chi se ne frega di Dio ma chi cazzo c'entra la dissenza con Dio io non ho detto che è la scienza che nega Dio ho detto che io credo che non esista chi cazzo ha mai detto che la scienza nega Dio il fatto che tu non l'abbia detto comunque non implica che io non possa dirlo ok lo sto dicendo io per pensare una cosa che io non ho detto o mi devi lasciare parlare cazzo di gattino mi devi lasciare parlare ok allora la scienza non nega Dio tutte queste proposizioni scientifiche si sai si è risaputo vengono dette ipotesi impropriamente sarebbero congetture perché appunto come mi spiegava al mio prof di fisica come dice ogni fisico ogni scienziato che si rispetti la fisica e tutta la scienza è un insieme è un modello è un insieme di congetture e sono gli scienziati che prima di tutto devono mi devi lasciare parlare e sono gli scienziati che prima di tutto devono dubitare delle proprie delle proprie proposizioni perché è proprio la persona che dubita delle proprie proposizioni che può migliorarle tu pensa che la fisica newtoniana non è completamente vera è proprio perché qualcuno ha dubitato della fisica newtoniana che esiste la teoria dell'attività se noti sì la teoria della relatività sì è nata dalla fisica newtoniana sì però è nata basandosi su quello non sono molto esperto ma sono abbastanza sicuro che le due cose non possono coincidere non coincidono perfettamente cioè ma scusa genio tu pensi di essere un genio? non voglio rispondere alla domanda che sono inerente all'oggetto della discussione scusa non fare domande che non sono inerente all'oggetto della discussione scusami comunque per finire perché adesso comunque dopo averti distrutto dopo averti spento una volta per tutte volevo cioè adesso volevo sì quando tu non sai come rispondere qualcuno faccia qualcuno faccia un video dove scrive che mi ha distrutto se ci pensi è la mia cosa che qualcuno faccia un video dove scrivete che mi ha distrutto se no quest'uomo le viene un esaurimento nervoso per l'amore di Dio volevo comunque retificare quella cosa nel quale dicevo che provavo lo stimo per la Dario Moccia ma in verità no non lo stimo più non mi piace come cioè non parliamo di cose se non inerenti e tiri fuori Dario Moccia ma scusami attenzione non ho detto ho detto non voglio rispondere a domande che non sono inerenti all'oggetto non che non voglio parlare di cose che non sono inerenti all'oggetto nella fatispecie l'ultima nuova proposizione non era una risposta ma un'affermazione dunque non mi sono contraddetto ah volevo invece affermare la mia disestima soprattutto nei confronti di questi di quelli di questi che io chiamo filosofetti da strapazzo che sono Rick Dufer e come si chiama l'altro Vesa Vesa infatti secondo me la filosofia è la metafisica tutto ciò che non è metafisica è filosofettia da strapazzo sì filosofettia non esiste come parola però beh un neologismo da me formulato in questo istante e penso che Rick Dufer e Vesa siano filosofetti da strapazzo nel senso che non sono portatori di verità in quanto dovrebbero amarla la verità dal nome filosofia amore per la verità e dico questo proprio per il fatto che secondo me quelli che si definiscono filosofi che si identificano come filosofi e non sono metafisici negano la metafisica non hanno le basi scientifico-logiche per poter parlare con cognizione di causa per quanto riguarda ciò che è vero e ciò che è falso infatti si sa siamo solo noi siamo principalmente noi logico-matematici metafisici che sappiamo quando una proposizione è vera ci sappiamo quando possiamo essere certi della proposizione vera proprio perché utilizziamo il linguaggio e la logica cosa che invece non fanno questi filosofetti da strapazzo quali appunto tutti coloro che non sono metafisici e dunque si ritrovano a credere credere con certezza a qualcosa di cui non hanno alcuna dimostrazione e che non consiste in una sioma genio posso farti una domanda? o in un argomento di fede posso farti una domanda? sì mamma sto parlando mamma posso farti tu sei un genio matematico giusto? ah lo so ok non rispone a domande che sono giusto sì diciamo che sì ok posso farti un indovinello? voglio vedere se lo risolvi al volo? va bene ok però hai tipo visto che sei un genio hai tipo due minuti per pensarci va bene ok allora ti metto il timer quindi solo due minuti se non ce la fai fa niente ti dico la soluzione allora l'ho già fatto da Andrea anche te ne faccio prima uno più semplice poi se lo risolvi subito te ne faccio quello più difficile però due minuti quattro minuti totali no me ne fai uno che è questo qua e dopo non me ne fai nessun altro perché non sono qua a fare indovinelli prego 7 per 8 56 no no non era questo allora ti faccio allora così ti faccio direttamente quello più difficile allora vuoi? sì ok fammi quello che vuoi ok hai 12 palline una la conosci già stendovinello? no dimmi la verità se lo conosci già ho due palle sotto ma non so di queste 12 palline di cui parli beh questa è la carina no hai 12 palline una di queste 12 pesa diversamente da tutte le altre non so se pesa di più di meno ma pesa diversamente ok e le altre sono tutte uguali di peso e forma tranne una che pesa diversamente ok hai una bilancia a piatti e hai tre pesate per capire qual è la bilancia che pesa di più c'è la pallina che pesa di più come fai 12 le divido in due le peso quella che pesa di più ha la pallina allora possiamo che ok quella che pesa di più no ma non pesa di più pesa diversa c'è la pallina c'è la pallina c'è la pallina c'è la pallina vabbè pensaci su ci sta è difficile comunque anche rispondere subito quindi qui non ti capisco va bene c'è il matematico è altro da aggiungere qualcosa saluti la casa non so volevo salutare Giorgio Cappello di Paglia il mio youtuber preferito ah si è il mio youtuber preferito si 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 ma noi ci sentiamo anche su su instagram mi do consigli su come farsi le ragazze in discoteca ti da lui consigli a te io do consigli a lui ah perché tu non ti fai le ragazze in discoteca me ne faccio un botto invece me ne faccio tantissime veramente si 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 il mio record è a sette tipe ok non è tantissimo ok però si rispetto ai miei amici si è tantissimo e quale è la tua tecnica? pirouette perché se durla se puoi senarla allora partiamo da questa volta che sono un bel ragazzo è un fisico della madonna per cui insomma potrei anche non fare un cazzo potrei anche non avere una tecnica però vabbè insomma faccio una pirouette faccio una seconda pirouette così lei si sente a suo agio e si sente sicura vedo che sono un ragazzo simpatico insomma che non sono pericoloso appunto e dopo boh tento di baciarla e la bacio me la faccio e poi magari ci fa anche sesso con le pirouette pirouette e poi ci fa anche sesso magari? no no perché per fede effettivamente non sono mai riuscito ho chiesto molte volte il numero però però dopo boh sono meglio che magari non le chiamavo perché inconsciamente penso che non sia giusto per questo ah quindi non sei arrivato al momento di fare sesso effettivamente no ok vabbè no perché vorrei farlo con la con mia moglie vabbè ci sta no si chiara che vorrei chiaro vabbè ci sta ognuno ha le sue idee quindi giusto ognuno fa quello che crede giusto Andrea? vabbè saranno fatti i suoi fare quello che è meglio che sono innamorata di una ragazza toscana mamma mia quanto sono innamorata oh veramente? e lei? lo sa? lei lo sa cioè non sa che sono innamorata così tanto però io l'ho vista solo una volta è stato un colpo di fulmine ah è come mi ha detto lei è fidanzata e gli ho detto io sono più bello del tuo ragazzo lascialo per stare con me e lei fa eh sì però sono fidanzata poi l'ha legata in cantina vabbè dai era una battuta genio le battute sono battute non è che vedo che non ti sta molto simpatico Andrea così a prima parte ma guarda se non si era capito vagamente proprio lo odi praticamente ma non si era capito ma poi è una cosa che neanche per una cosa che ho fatto io cioè ma prendetela con quelli di tiktok scusi se perché te la prendi con me ma io non me la prendo con nessuno penso un po' ma senti piuttosto tu Andrea sei fidanzato? mh ah bene bene e gli ho fatto un po' di pirouette e è rimasta sedotta immediatamente bravissimo pensi di avere se posso chiedere se non sono indiscretto dimmi pensi di avere figli anche? boh forse sì può essere può essere sì ok magari qualcuno ne salta fuori mai dire mai non saprei adesso non saprei perché dipende insomma avendo già 34 anni dipende se riesco a trovare casa e poi sfornare bebè quindi avendo già avendo ancora 34 anni ormai uno a 50 anni si considera giovane 34 sei un po' di eh lo so però fai un figlio che hai 40 anni lui ne ha 20 tu ne hai 60 vabbè ormai siamo nel 2023 eh lo so però a meno che non vivi 100 anni cioè se avessi la certezza matematica di vivere 100 anni non mi farei problemi però assurdo oh beh al massimo merito era prima non è che voglio dire certo ma genio ma tu posso scomparare di discrezione tu sei contro le precauzioni tipo i preservativi beh partendo dal presupposto che io sono contro il sesso post matrimonio fuori dal matrimonio extra matrimoniale direi di sì quindi secondo te tu sei contro sono contro sì sono contro sì assolutamente ok però vabbè è una tua idea basata sul dottrina cattolica è quello che dice la dottrina cattolica e niente di più i miei amici li fanno uso ok i miei amici non sono cattolici non li giudichi per questo hai comunque rispetto di chi non la pensa come te un'altra dottrina un'altra legge della dottrina cattolica dice di non giudicare penso un po' e per cui non posso non voglio giudicare nonostante io faccio una miriade di peccati una miriade siamo delle persone più superbe più arroganti più lussuriose diciamo perché effettivamente non ho una ragazza per poi ma le pippe beh sì possiamo dire così sì eh sì è vero è vero è vero grazie neanche tanto grave però è un peccato sicuramente è un peccato cioè è un peccato è un peccato sì sì è un peccato non è grave ma è un peccato va bene sai come ti dicevano no non ti fare le pippe che Gesù ti guarda dicevano così mi ero inquietato a pensare che c'era Gesù che mi guardava col pisello dritto però infatti anch'io non riesco a farlo se penso a questa cosa qua devo non pensarci che Gesù mi guarda vabbè se ti guarda la Madonna magari più no magari io mi eccito di più se mi guarda vabbè ognuno ha le sue perversioni nel senso ognuno ha le sue ma la tua categoria preferita porno? posso? se te li guardi no non puoi non puoi non puoi ma ci sta ci sta però li guardi sì mi è capitato sì li guardo vabbè vabbè dai siamo giovani troppi peccati troppi peccati vabbè Green io ti devo salutare abbiamo concluso salutiamolo insieme genio dai così grazie genio ci vediamo ragazzi fate una sperata mi auguro che andressa a remo Green all'anno prossimo dici eh questo saremo grazie questo saremo ormai è già bello che è passato ah ok scusi no per il prossimo però grazie grazie genio prego prego veramente un bellissimo complimento grazie io ragazzi vi saluto ci vediamo alla prossima vi auguro buona serata e care cose ciao ragazzi ciao genio una paschera di pelle sopra il fisico che mi culo una vetrina sulle stelle con la musica da ballare una paschera di pelle sopra il fisico che mi culo una vetrina sulle stelle con la musica da ballare da ballare ho paura della fama